Marco Re, ho visto Paolo Belli, neopresidente della Nazionale Cantanti al quale ha ceduto il posto della squadra dei campioni per la ricerca che intanto fa circolare la palla vediamo, Allegri calciare in profondi abbiamo fatto un bel acquisto perché sai abbiamo bisogno di ricambio non è un caso che io sia qui a fare la telecronoma soprattutto per le caviglie, ho passino per le caviglie ho donato tutto alla Nazionale Cantanti un tendine dal punto, dicevamo, il portiere del Catanzaro Leone che è insomma direttamente coinvolto perché ha avuto una battaglia importante per ragioni di maglia sulla fascia sinistra c'è Agnelli si restreggia bene Agnelli e poi appoggia il pallone per Massimiliano Allegri per la ricerca vediamo come si chiuderà questa azione alla quale partecipa Allegri che da difensore si è trasformato in suggeritore per concludere Davids ha molti giocatori davanti preferisce gestire il pallone e servirlo per Allegri Allegri che sta scaricando forse un po' di tensione in attesa di Carlo riesce ad evitare il ritorno di Agnelli poi però l'azione si perde nelle retrovie avrebbe potuto passarla dietro a Morandi ma non l'ha vista le squadre italiane ovviamente con alti e bassi Allegri carica il destro va il tiro hanno spunti per gli altri in modo altruistico bello questo appoggio ai Allegri si è fatto male un scontro con Benji no no non si può infortunare Allegri si tocca si tocca l'adduttore destro faccio quello tecnico guarda ti rubo il pane è perfetto è perfetto eh sì hai ragione c'è stato uno scontro non cattivo è stato un va qui ci vuole un grandissimo applauso perché il suo genero è stato coraggioso generoso Morandi va a fargli una coccola verso il ruolo di Morandi ha cambiato ruolo hai dolore alla spalla per tanti che è scimmato mister hai finto non ti sei fatto nulla no assolutamente hai giobbato hai un po' giobbato eh no non ho giobbato mi divertivo è che mi sono fatto male una contratturina no noi volevo dire una cosa allora se Chiambretti è del Torino questo è lo Juventus Stadium noi siamo di un'altra bandiera ma stasera qui non ci sono bandiere c'è solo un grande cuore che batte per la ricerca è un grande cuore che batte è una serata è fantastica un pubblico meraviglioso e queste sono sempre serate bellissime che partecipare fa bene soprattutto per dare un aiuto un piccolo aiuto a chi veramente ne ha bisogno mister da qui da queste due squadre chi possiamo portare alla Juve Benji Benji sicuramente poi acquistiamo anche Olli magari tra l'altro abbiamo fatto due scatti infatti al secondo ci sono rimasto si può andare contro tutto ma non contro l'età allora 4-5-5-4-0 donate 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 grazie mister grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti